rock a chilometri zero beh in effetti sono state scritte a 500 metri da qua in linea d'aria tutto può arrivare a dire dai vostri applausi capiremo se sono ok va bene? Corri di qui, corri di l'accentrato un traffico guardano, ma in fondo non ti diverti mai Corri di ragione, poi tornerai soggettato tra buco ma qualcosa non va, mi sa che a letto è meglio andare ma tu dimmi se ti sembra normale che l'ultimo locale sia proprio casa tua faiato sul divano, con una birra in mano non esisti proprio più c'è relativo quello che fai non piace lo sai è molto meglio se stai a casa con i tuoi tra un teretrimme o varietà e invece bello è girato a tua messa notte sei già stennato si chiude e te ne devi andare ma tu dimmi se ti sembra normale che l'ultimo locale sia proprio casa tua faiato sul divano, con una birra in mano non esisti proprio più che l'ultimo locale sia proprio Ma tu dici se ti sembrano male, che l'ultimo locale sia proprio casa tua. Sdraiato sul divano, con una birra in mano, non resisti proprio più. Sdraiato sul divano, con una birra in mano. Sdraiato sul divano, con una birra in mano. Grazie.